Riapre i battenti la piscina comunale Poseidone a Capaccio Scalo in Viale della Repubblica. Le attività natatorie in programma nella struttura gestita dall'azienda speciale Paistom ripartono lunedì 5 ottobre. Aperte le iscrizioni. Si riparte dunque dopo l'interruzione delle attività lo scorso marzo a causa del lockdown. Diverse le attività previste, corsi di nuoto per bambini e adulti, corsi di perfezionamento acqua fitness, nuoto libero, scuola di pallannuoto e corsi di nuoto per diversamente abili. È possibile procedere alle iscrizioni da lunedì al venerdì dalle 15 alle 19. Ripartono in sicurezza le attività della piscina Poseidone, dichiara il sindaco di Capaccio Pestumo, Franco Alfieri. Abbiamo voluto assicurare ai cittadini di Capaccio Pestumo, in particolare ai nostri ragazzi, in concomitanza con la riapertura delle scuole, anche la possibilità di praticare uno sport sano e completo come il nuoto. Dopo i duri mesi del lockdown riapre finalmente la piscina comunale, afferma il consigliere con delega allo sport e alle politiche giovanili Antonio Mastrandrea. Non ci aspettiamo mesi semplici, ma abbiamo lavorato con la Paistom per garantire la massima sicurezza ai bambini, ai ragazzi e agli adulti che vorranno scegliere il nuoto come loro sport. Nel ricordare quanto è importante praticare attività sportiva nella formazione di ognuno, auguro a tutti un buon anno di sport.